Torniamo a parlare di ambiente perché oggi siamo in compagnia di un giovanissimo imprenditore che è tra migliori under 30 europei nella lista di Forbes. Tutto parte da Aversa e da quella che potrebbe essere anzi quella che è una rivoluzione nel mondo degli edifici grain perché come scopriremo tra pochissimo i nostri palazzi inquinano tantissimo. Il buongiorno a Yari Cecere oggi qui con noi per presentarci e per raccontarsi e per raccontare anche la sua rivoluzione immobiliare totalmente sostenibile. Grazie e innanzitutto complimenti perché tra i migliori under 30 europei nella lista di Forbes e probabilmente cominciamo dicendo che non tutti sanno che ad inquinare sono soprattutto gli edifici perché gli edifici inquinano più degli automobili a causa del riscaldamento. Sì prevalentemente per la gestione degli appartamenti. Noi facciamo residenziale però proprio per la gestione degli immobili si emanano, vengono emesse molte particelle di CO2. Quindi gli edifici non tutti sanno che sono responsabili di circa il 40% delle emissioni di CO2 nel corso dell'anno. Noi di solito associamo all'inquinamento sempre l'automobile, l'industria però i centri urbani perché dove sono concentrati gran parte degli abitanti, della popolazione circa il 70% sono responsabili di circa il 70% dell'inquinamento globale nonostante occupano a livello territoriale circa il 2-3% sulla superficie terrestre. Qualcosa però ultimamente sembrerebbe cambiare, qualcosa si sta muovendo, il superbonus tra l'altro è finalizzato proprio a migliorare la nostra efficienza energetica ma tutto questo può bastare, può essere sufficiente? Allora si sta facendo tanto però la mia considerazione è che si sta facendo troppo di fretta e questo comporta un lavoro non fatto bene. Mancazza di alcuni passaggi importanti. Sì, sono state emanate delle direttive, delle leggi però prima cosa c'è un problema proprio di interpretazioni, è difficile capire alle volte in tutte queste leggi, in queste direttive che vengono emanate dove muoversi, in che direzione muoversi e poi siamo incappati in un periodo dove è difficile approvvigionare la fornitura. Le forniture quindi ci sono dei rialzi continui ed è difficile proprio reperire le materie prime. È un po' come il cane che si morde la cola, mi sembra di comprendere. Tra l'altro stiamo parlando molto anche di transizione energetica, transizione ecologica ma presumo che la stessa debba passare prima nelle nostre case, negli edifici, soprattutto innanzitutto affinché possa poi ottenere un successo e una vera e propria tutela per il nostro ambiente. Noi facciamo una cosa molto più drastica perché noi ci occupiamo di rigenerazione urbana però non andiamo ad intervenire con ristrutturazioni, quindi le classiche, la ristrutturazione della facciata piuttosto che il cambio degli infissi. Andiamo ad acquistare interi edifici, li demoliamo totalmente e poi ricostruiamo edifici nuovi a basso impatto ambientale. Edifici verdi, edifici green, quali le specifiche di tali edifici su cui voi avete puntato come progetto di grande sfide, di grande ambizione? Ci sono varie variabili che portano un edificio a diventare green. Noi, diciamo, la prassi deve essere quella di rendere l'edificio a consumo quasi zero quindi cercare di danneggiare quanto meno è possibile l'ambiente. Noi nell'ultimo anno abbiamo adottato una nuova tecnologia che è quella delle facciate anti-smog quindi che rendono i nostri edifici una funzione attiva al contrasto dell'inquinamento ambientale. In pratica noi attraverso le facciate fotocatalitiche che contengono una molecola, il biossido di titanio riusciamo ad eliminare l'effetto negativo prodotto all'incirca, se per mille metri quadri di superficie riusciamo ad eliminare l'effetto negativo di circa 70 automobili nel corso di un'intera giornata. Quindi non più un edificio che consuma poco e magari inquina poco ma un edificio che riesce anche a contrastare l'inquinamento ambientale. E questa è la prima differenza che possiamo scorgere come impatto ambientale tra una casa green e una casa tradizionale o edificio green. Non solo questo, l'involucro prima di tutto deve esserci un isolamento che permette nel periodo invernale di non far uscire facilmente il calore quindi di accendere quanto meno è possibile il riscaldamento. Nel periodo estivo viceversa e poi la tipologia di impianto che c'è, le fonti di energia se sono rinnovabili piuttosto che fossili, il classico gas che noi utilizziamo negli edifici, noi stiamo cercando di non utilizzarlo più, quindi alimentare i nostri edifici, le nostre case attraverso fonti di energia rinnovabile senza l'ausilio del gas. Quanto potrà accadere effettivamente tutto questo da lei raccontato? Edifici verdi formeranno le città del nostro futuro? Come saranno a questo punto le smart city del domani e quando vedremo anche in Campania una vera e propria rivoluzione green che abbracci totalmente i nostri edifici? La rivoluzione penso sia in atto sia cominciata, però ci vorrà ancora molto tempo perché purtroppo abbiamo un patrimonio edilizio molto obsoleto, molto vecchio. Tutto quello costruito dagli anni 60, anni 70, è davvero da buttare giù e rifarlo. Perché anche intervenendo in facciata si fa poco quanto niente. La mia idea, la nostra idea è quella di portare gli edifici ad essere cognitivi, quindi non solo più sostenibili dal punto di vista ambientale, ma anche cognitivi che riescano ad interagire con gli utenti, con gli abitanti, in modo da limitare i consumi energetici, ma anche dare un maggior confort abitativo a chi ci abita. A questo punto si parla tanto di green, ma soprattutto dall'offerta, da quello che in realtà dovrebbe essere e fra poco con il sopraggiungere dei fondi europei del PNRR che dovrebbero offrire un'opportunità di cambio, di rotta, di marcia sul tema ambiente. Ma da cosa passa secondo lei il futuro green nel nostro paese? Il futuro green, diciamo la comunità europea sta facendo molto, sta provando a fare tanto, però vedo che anche nell'ultimo congresso che si è tenuto qualche mese fa, non ci sono ancora delle azioni incisive. Tanto è vero, si abbassano i parametri, si abbassano gli obiettivi rispetto al piano di Parigi. L'obiettivo principale è quello di abbassare la temperatura terrestre di almeno due gradi. Oggi siamo scesi con questo parametro di un 1,5. Quindi non riusciamo nemmeno su carta a puntare in alto, nel senso ad avere un piano concreto che riesca... E quindi a questo punto le chiedo in conclusione se può bastare un contributo così come offerto dalle sue aziende come la sua, come stiamo spiegando quest'oggi, oppure serve un supporto incisivo, decisivo da parte delle istituzioni? È necessario un supporto incisivo da parte delle istituzioni, ma io penso che ci sia importante il cambio di mentalità. Cioè di tutti noi, ognuno di noi ha un ruolo in questa transizione ecologica, e quindi se tutti noi capiamo, non più subiamo le leggi, le istituzioni, ma riusciamo con la nostra anima, con la nostra coscienza ad attuare atteggiamenti per il rispetto ambientale, perché poi ne beneficiamo anche noi, questo dobbiamo capire, si può fare tanto. Finché noi non lo capiremo e quindi subiremo solo le istituzioni, sarà molto difficile. Questo tra l'altro è un obiettivo che si è posto anche l'Agenda 2030, riusciremo per quella data? Avremo bisogno di tempo? La vedo difficile, io penso che ci sarà sempre uno al nuovo congresso che abbasserà di nuovo gli obiettivi o rimanderà gli obiettivi. Intanto bisogna lavorare da adesso, sia in mentalità, ma anche così come effettivamente dei progetti che per appunto possono cambiare il senso di rotta, di marcia per la tutela del nostro ambiente. Tanto complimenti ancora e grazie a Yari Cecere oggi qui con noi per averci ancora una volta parlato di tema ambientale. Grazie a tutti voi. Restate con noi pubblicità. Grazie.